Per me l'innamoramento iniziale per la BTE è stato intellettuale, perché io avevo una formazione, nella mia prima formazione si parlava tanto di pensiero debole e incontrando la BTE molto prima di arrivare qua avevo notato che era un pensiero forte. Era un pensiero forte perché riusciva a mettere insieme il logos e l'eros, insieme, cioè la struttura, il pensiero, la codificazione, il codice eccetera, con la forza vitale, l'amore, la ricchezza di quello che è davvero. E le due cose staranno insieme. Questo secondo me era ed è una cosa di un valore incredibile, quello che differenzia la BTE da tutti i vari cenacoli vagamente sciamanici. E questo è stato il mio primo innamoramento, che vale tuttora, ma che adesso si è, come dire, arricchito di qualcosa di nuovo. Quali sono le cose sulle quali forse io posso dire che adesso sono in cammino in maniera forte, per cui con la BTE sono lì. Vabbè, intanto c'è l'accesso al transpersonale, che è una cosa per niente ovvia per me, anche per molti di noi che siamo stati elevati nella tradizione razionalista, insomma, l'accesso a questo serbatoio di informazioni che non sono solo sensazioni, non sono solo la tua sensazione, ma anche davvero l'informazione che a un certo punto ti arriva da qualche parte e da un contenuto conoscitivo e però non viene dai dati di fatto reali. Questo per me è una scoperta quotidiana, ma anche un terreno di una difficoltà e di una fascinazione incredibile. E questo, secondo me, è una delle ricchezze della BTE. E poi l'altra cosa di dove sono io oggi, con la BTE, è la scelta. Cosa che prima non c'era, perché prima ero in uno stato di osservazione. Oggi c'è la scelta che va fatta anche un po' tutti i giorni e che non è facile, alla quale gli anni di BTE mi hanno portato e la scelta si chiama col essere quello che sei, che per me non è ancora facile. Ci sono tantissimi momenti di eroismo in quello che noi facciamo. Nella vita quotidiana uno comincia con la BTE e poi fa dei suoi piccoli, che però sono grandi, atti di eroismo, cambiando la sua vita, lasciando persone, mettendosi a rischio completamente. Insomma, fa delle cose che in un contesto di normale valutazione costi-benefici non si farebbero, no? E per fare questo ci va la scelta. E la scelta è uno dei termini cruciali della BTE, cioè quello che ti insegna, insomma. Ecco, un'altra cosa che secondo me è un valore enorme è il fatto che quello che impariamo qui ci insegna ad accettare l'errore, ad accettarlo e non solo, ad accoglierlo e anche a celebrarlo. Perché comunque è la forza vitale che passa di lì e il percorso, insomma, tutte le ragioni per cui lo si fa. E questo consente di acquisire un livello di verità superiore. Perché ti consente di integrare l'ombra, di vedere i tuoi limiti, di guardare l'altro con uno sguardo diverso. Nel momento in cui cambia così tanto lo sguardo tu non sei più la stessa persona. Però la scelta va rinnovata ad ogni istante, ad ogni bivio. Cioè ce ne sono centomila di bivio, anche nella giornata quotidiana, in cui tu devi scegliere di essere ciò che sei, di ricordarti ciò che sei, di lasciare perdere determinate abitudini di pensiero. Quindi questo per me è fondamentale. Riguardo al discorso degli Orishaka, anche io inizialmente, avendo la vostra stessa formazione, mi ero chiesto, ma diavolo cosa sono queste robe? Anzi, insomma, dà quasi un attimino di disagio. E anche io avevo pensato, se dobbiamo parlare di archetipi perché non lavoriamo con gli archetipi classici che ci sono, eccetera. Però negli anni ho capito che tutto il mondo archetipico dell'Occidente, quello dell'Oriente non lo conosco, non posso dire nulla, però tutto quello dell'Occidente, il Panteo è un classico, insomma, gli dei della Grecia o anche il dio dei cattolici, il dio degli ebrei, insomma, hanno una dimensione algida. Cioè sono, non so, se dovessi dire, direi che prevale l'elemento apollineo, quello, la giustizia, il sole, le cose, le cose viste nella loro trasparenza. Mentre noi siamo, e qui lo verificiamo tutti i giorni, fatti di carne, sangue, lacrime, deiezioni, schifezze. Cioè noi siamo quella roba lì. E il Panteo, invece, brasiliano, è vicino a questo. Perché è il Panteo di gente che ha sofferto il Panteo di gente che ha combattuto, che magari non era bella, non aveva la purezza degli dei greci. Cioè era, non so, è sangue, è lacrime ed è vita vera. E attraverso quella, secondo me, almeno questa è stata la mia esperienza, attraverso il contatto con questo tipo di dimensione si buttano giù un sacco di sovrastrutture, un sacco di cose che ci siamo portati addosso. Che non sarebbe stato altrettanto facile, credo, con archetipi diversi. Però secondo me questo contatto rimane essenziale. Perché per noi è l'infa, per noi che siamo veramente i graci occidentali, cresciuti nella bambagia, con tutta una testa che schematizza, eccetera, e beh, questo è proprio vitale, è proprio nutrimento vero.